Da metà febbraio la Rocca De Magnale di Gradara ha un nuovo direttore. È l'architetto Stefano Brachetti, già funzionario nella Galleria Nazionale delle Marche e ora messo al comando del castello dalla direzione regionale dei musei. Un lavoro che per Brachetti è partito alla ricerca di un ulteriore salto di qualità per quello che è già il complesso monumentale più visitato della regione. Quello che vorremmo fare è evidenziare anche un ruolo culturale nel senso alto del termine della Rocca che molto spesso è considerata un po' una Disneyland della cultura nel senso che sappiamo che la Rocca era stata d'abbandono quando fu ripresa negli anni venti dallo Zambettori, fu restaurata in maniera un po' pesante con interventi di ricostruzione stile quindi una cosa che dal punto di vista scientifico oggi non si farebbe più però questo non vuol dire che noi dobbiamo leggere questo edificio come un passatempo grazioso ma anche riprenderlo per quello che vale. è innanzitutto una testimonianza storica che documenta Gradara, secoli e secoli di storia di Gradara in secondo poi anche questa ricostruzione novecentesca stile non è una cosa che deve essere per così dire buttata nel dimenticatoio perché comunque è testimonianza di un gusto culturale di un'epoca specifica e comunque all'interno della Rocca si conservano ancora delle parti originali nelle decorazioni, negli arredi di interesse. Direzione di Brachetti che si inserisce nella gestione della Rocca in capo al comune di Gradara una novità attivatasi nell'estate 2020 ma di fatto zavorrata finora dall'abbienio di pandemia. La gestione col comune per certi versi facilita i rapporti della struttura con il pubblico perché il comune è più sul territorio, più vicino alle esigenze del pubblico, più vicino alle esigenze degli abitanti di Gradara che comunque con il turismo della Rocca vivono perché insomma nella realtà di Gradara la presenza della Rocca è sicuramente importante da altri punti di vista lo Stato, il Ministero può offrire e aiutare il comune sotto tanti aspetti a cominciare dalla promozione. Da architetto Brachetti è pronto a ripensare alcuni spazi della Rocca a cominciare dal recupero del secondo piano. Riguarderanno però una bella fetta di questi lavori il recupero del secondo piano. Dal secondo piano ci sono molti ambienti, alcuni anche interessanti dal punto di vista spaziale, architettonico quindi sarebbe carino, sarebbe intelligente rendere fruibile al pubblico anche se con modalità di contingentamento, di visite accompagnate eccetera eccetera e quindi penso che sicuramente parte di questi ambienti entreranno nel circuito della Rocca. L'importante è che sì, la Rocca amplierà i suoi spazi e questi spazi saranno in parte fruibili al pubblico. Grazie. 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 Grazie.